L'istituto comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri si è radunato in piazza Santa Maria allestendo il mercato del riciclo con l'obiettivo di raccogliere fondi per la scuola. Questo è il mercatino green organizzato dalla nostra scuola, la scuola Giovanni Cena, che è una scuola sempre all'avanguardia da questo punto di vista. Infatti abbiamo anche degli impianti per risparmio energetico e il senso di questa giornata è il risparmio. Abbiamo ideato questo mercatino con le bancarelle che vedete che sono delle cose che magari ci hanno regalato e che non abbiamo mai usato. Iniziativa questa molto apprezzata e partecipata da famiglie e bambini. La scuola è un punto importante nella vita dei nostri ragazzi, l'istituto Giovanni Cena è qui nel territorio, è presente per tutti i ragazzi, accoglie tutti e gli aiuta a crescere. Noi con questa raccolta che stiamo facendo cerchiamo di portare nelle nostre casse dei soldi per crescere sempre di più. Vorrei ringraziare i genitori e tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo mercatino e vorrei anche i saluti del preside che in questo momento purtroppo non è potuto essere presente.